Guarda Alice Non ci risulta che stia lavorando per la compagnia del gas Riesci a vedere chi guida Eccolo Sì? Società del gas, signore Vi apro Grazie 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 Ok. Gambe in spalla, gente. Sento puzza di trappola. Andiamo, Sventi, andiamo. Texas Ranger, giù le pistole. Avete sentito? Buttatele giù. No, fermo. Voglio parlare con lui. Mettila giù. Su, avanti. Sparatemi. Non credo sia in vela di chiacchierare. No, non lo so. Fermo, lo sparate! Io avevo solo il compito di riprendere tutto. Avvicinati. Che ne è di Tracy Barnett? La ragazza che avete rapito durante l'ultima strage. Zink ci ha detto che era un regalo per Mr. O. Chi è Mr. O? Non lo so. Zink lo chiama così e dice che lo ha fatto uscire dalla clinica per malattie mentali in cui stava apposta per questo regalo. lavoro. Tu lo sai quante persone avete massacrato? Io, io penso siano tredici. Sì, esatto, tredici. Per quale motivo lo avete fatto? Per soldi accidenti! Non potrai mai goderteli. Dovrai rispondere di tredici omicidi di primo grado. Io filmavo soltanto, non ho ucciso nessuno. Eri loro complice. Hai filmato anche il vestaggio di Sidney Parker. Chi? L'uomo aggredito nel bar. Il vecchio scemo? Sì, perché... Pura curiosità.